Il buongiorno a Roberto Arditi collegato con noi, buongiorno e bentrovato come tutti noi. Buongiorno Barbara, buongiorno Luigi, eccoci qua. Eccoci qua, io non l'avrei mai detto che dentro questo completo, a maggior ragione adesso lo sto vedendo, questo completo un po' rigidino con la cravatta di Roberto Arditi battesse un cuore da tifoso e da sportivo perché oggi ci porta in curva signori, sarà la spinta degli europei, delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, non lo so, oggi parliamo di pallone, in realtà dei grandi, grandissimi soldi che il calcio italiano sta perdendo. Eh sì Barbara, ed è una riflessione che vale la pena fare perché questo è l'anno del più grande successo, almeno per i tempi recenti, calcisticamente parlando per l'Italia, abbiamo vinto gli europei, poi ci sono stati anche i grandi successi alle Olimpiadi, però insomma l'anno degli europei è un anno calcisticamente molto importante per l'Italia, però i numeri del calcio italiano sono invece piuttosto preoccupanti e d'altronde guardiamo un momento a che cosa è successo in quest'estate ad alcune delle squadre, mi verrebbe da dire a tutte, ma prendiamo le più note, quelle con più tifosi, penso alla Juventus, all'Inter e al Milan. Non è mica un caso se la Juve lascia andare via un giocatore come Cristiano Ronaldo e addirittura le due milanesi perdono i due giocatori simbolo in qualche modo degli ultimi campionati, Lukaku per l'Inter e Donna Roma per il Milan. Perché tutto questo accade? Tutto questo accade perché, come anche un report uscito in questi giorni della Federcalcio dimostra, il calcio italiano è in profondo rosso. Cioè la verità è che le società italiane di calcio, in particolare quelle più grandi, ogni anno conoscono disavanzi che si calcolano in decine e decine di milioni di euro in ogni anno. Naturalmente disavanzi che accumulandosi generano un debito imponente. Ecco, questa situazione del calcio italiano va in qualche modo sanata e tutti i dirigenti del calcio ne sono perfettamente consapevoli, ma si fatica a trovare una soluzione. Vorrei anche dire che il fenomeno accade anche un po' in giro per l'Europa ed è anche un po' figlio del periodo Covid da cui veniamo, un periodo nel quale per esempio gli incassi dei biglietti allo stadio sono notevolmente calati. Ma la situazione finanziaria del calcio italiano è molto preoccupante e tra l'altro comincia a ripercuotersi anche in qualche modo sul movimento di base, tant'è vero che la federazione segnala addirittura un calo degli iscritti, cioè c'è un rallentamento anche di tutto il movimento calcistico. Probabilmente figlio questo rallentamento, oltre che del Covid, anche del fatto che le società fanno più fatica di investire. Ci sono dei rimedi però, uno dei quali è per esempio osservare come in Italia si discute da molti anni, voglio pensare alla situazione di Roma, tanto per fare un esempio, degli stadi di proprietà delle squadre e però si finisce solo per parlarne e non succede quasi mai niente. La Juventus ha fatto questo a Torino, a Roma se ne parla da 10 o 15 anni e non si è mosso un muscolo, anzi addirittura l'ipotesi più realistica è finita in un'inchiesta con arresti e il progetto è totalmente tramontato. E anche a Milano, diciamo così, gli stadi o lo stadio e i redi di San Siro sono oggetto di un dibattito che va avanti da anni, ma una decisione non c'è. Anche se Milan e Inter, un po' a corrente alternata, hanno espresso la volontà di fare un nuovo stadio. Che cosa voglio dire? Voglio dire che gli stadi sono ad esempio un modo per patrimonializzare le società, per renderle più forti dal punto di vista della loro capacità di investire e di essere soggetti economici forti. Di tutto questo ci sarà bisogno di parlare in Italia, perché se guardiamo solo i risultati del campo rischiamo di scoprire mese dopo mese che il calcio italiano comincia ad essere rispetto a quello inglese o anche francese e tedesco un campionato ridimensionato, proprio perché le risorse a disposizione sono minori. Questa è anche un po' la risposta Roberto, ti chiedo 20 secondi davvero un flash a quelli che dicono che ci dispiace perché le società sono comunque aziende ma alla fine il calcio è calcio, insomma non è così importante per quanto riguarda un paese. Il calcio è un sport, certo, ma è anche un gigantesco fenomeno sociale ed è anche una grande motore di lavoro per un sacco di persone. È un pezzo rilevante della nostra economia, dei diritti sportivi, della televisione, di tutto quello che ruota intorno al calcio e quindi va trattato come una industria, non come un giocattolo. Puoi avere lo stadio di proprietà, proprio per questo ti permette di avere il ristorante, lo store con tutti i gadget, una serie di cose per cui gli introdotti sarebbero maggiori. Una cultura del calcio, non soltanto un posto dove andare a vedere la partita. Roberto Arditi, grazie, ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo. Buon lavoro. Molto bene e buon fine settimana.